Io leggo perché in un'ora in cui se lo vede resante leggere una chat, inibirano ancora il potere magico della cultura e del divertimento. Non è neanche volo inibrare la scuola. Io leggo perché così posso vedere in modo un'altra prospettiva. Io leggo perché ci tengo al mio futuro. Leggere è molto importante. Io leggo perché posso viaggiare con la fantasia. Legare anche i punti. Io leggo perché un libro è un amico. Donate un libro alla nostra scuola perché chi trova un libro trova un segno. Io leggo perché un libro non è solo un oggetto ma un mondo a scuola. Io leggo perché leggendo posso sognare senza chiedere gli occhi. Io leggo perché c'è sempre da imparare. Acquista anche tu un libro da donare alla scuola. Io leggo per imparare. È un mondo di popolare e l'immaginazione. Donate anche tu un libro alla nostra scuola. Io leggo perché voglio imparare, conoscere e scoprire. Compriamo libri e torniamo alla nostra scuola. Io leggo perché i libri sono amici che fanno compagnia. Sono sogni di accesa fantasia. Sono inviti a straordinari viaggi. Entrate in libreria. Vi piacerà. Il sapere rende liberi, mentre l'ignoranza rende prigionieri. Acquistate anche voi un libro da donare alla nostra scuola. Per me la lettura è un amico fedele rispetto al libreria. Ho sempre sognato di vivere la vita nella natura. Ecco perché leggo. Perché grazie alla lettura si può viaggiare con la mente e con la fantasia. Io leggo perché leggendo posso scoprire tante cose nuove. Io leggo perché leggere i libri è il gioco più bello che l'umanità abbia inventato. La spezziamo in libreria per acquistare un libro e donarlo alla nostra scuola. Io leggo perché la lettura mi trasporta sull'area della fantasia. Io leggo perché leggere mi ispira e leggendo mi sento in un altro mondo. La lettura è un viaggio verso mondi fantastici. Acquistiamo e doniamo un libro alla nostra scuola. Io leggo perché voglio scoprire il mondo che è fatto di persone che raccontano storie. Io leggo perché mi piace viaggiare con la fantasia e scoprire mondi mai visti. Vi aspettiamo in libreria per acquistare un libro e donarlo alla nostra scuola. Io leggo perché mi piace viaggiare un libro e donarlo alla nostra scuola. Io leggo perché mi piace viaggiare un libro e donarlo alla nostra scuola.